questa si tiene ma lei lei è quello dell'università può essere sono uno studente sì no no parlo di quello di oggi non è il mio studente sicuramente ma lei sarebbe ripeto i goblin sono simili non mi prende in giro e questo dimostra ulteriormente che non è mio studente i miei studenti non sono traviati come te mai si vestirebbero da donna grazie